Benzina che ha servito supera i 2 euro al litro, l'ennesima tegola sulla testa dei consumatori penalizzati dagli aumenti del carburante, accanto a loro i gestori delle pompe che si trovano in balia delle altalene dei prezzi, un effetto domino con pesanti ricadute sull'economia delle famiglie. Questo va a incidere, va a riflettersi anche sull'economia generale, quindi di tutto il comparto, quindi anche problemi per quanto riguarda l'inflazione, sicuramente i beni di primo consumo andranno in aumento, questo creerà sicuramente dei disagi anche a noi, perché sicuramente come abbiamo detto più volte non siamo noi che incidiamo sul prezzo, ma vengono gestiti direttamente dalla compagnia. Sono costi veramente che non si capiscono come mai, sono un po' esagerati, dopo ci sono questi aumenti, un alto e un basso, che non si capisce neanche perché, l'andamento del petrolio più o meno è stabile, non lo sappiamo neanche noi. L'incertezza continua ad aumentare, non è che sia un'incertezza sul fermo o sul base, qua non si sa di preciso, ci dicono tante cose, ma in realtà non si sa cosa sia. Anche per voi proprio che gestite questo impianto? Sì, perché anche noi personalmente i prezzi aumentano e diminuiscono, diciamo quasi a giornata insomma alla fine. Quello che si chiede e quello che stiamo facendo con il governo e anche con l'Unione Petrolifera, sui vari incontri che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è cercare di trovare una quadra per una ristrutturazione, una riforma del settore, che possa sicuramente diminuire il numero degli impianti, aumentare magari l'erogato del singolo impianto, una diminuzione di costi anche per le compagnie sul trasporto, che tutto questo possa servire a una diminuzione del prezzo. Poi se il governo vorrà intervenire sul discorso delle accise, sicuramente è una cosa positiva per l'utente finale. Sarebbe meglio dire se il governo mantenesse le promesse fatte in campagna elettorale, quando la Premier Meloni parlò di eliminazione proprio delle accise.